E' giovedì 17 giugno, buongiorno e bentrovati con la nostra prima edizione del telegiornale. Con l'assistenza tecnica e regia di Gianfrancesco Iacaruso diamo uno sguardo alle nostre notizie. In apertura c'è il dibattito sull'autonomia del Molise. Il presidente Frattura è intervenuto con una durissima nota per replicare al commissario alla Spending Review Cottarelli. Ma ascoltiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. La regione Molise si salverà o no dalla scure della Spending Review? La domanda è tornata di attualità dopo che il giornalista Sergio Rizzo ha divulgato dalle colonne del Corriere della Sera la notizia secondo la quale dai documenti predisposti dai gruppi di lavoro sui tagli alla spesa pubblica verrebbe fuori la lapidaria conclusione che la regione Molise non avrebbe ragione di esistere. Sulla indiscrezione è intervenuto a muso duro il governatore Paolo Frattura che ha parlato senza mezzi termini di qualunquismo e di populismo dei tecnici ministeriali responsabili della proposta di cancellare l'autonomia regionale. Piccoli come siamo, ha dichiarato il presidente, in un solo anno abbiamo risparmiato 11 milioni di euro lavorando tutti insieme per ridurre la spesa corrente e per semplificare la nostra architettura istituzionale. Nei prossimi due anni faremo altri tagli, dimezzeremo il personale, il numero dei dirigenti ed elimineremo le spese improprie, ha aggiunto Frattura. Abbiamo cancellato tutte le attività non prioritarie, abolito le premialità che non rispondono al merito ha accorpato organismi con funzioni identiche, ha poi sottolineato il governatore. Più volte ci siamo difesi da chi, al terne voci di tutti gli schieramenti politici, con superficialità assoluta, ha sentenziato che il Molise non ha ragione di esistere, ha spiegato il presidente. Oggi riprendiamo la nostra difesa di fronte al verdetto emesso, almeno così sappiamo, dai tecnici incaricati di individuare e di eliminare gli sprechi del sistema paese, ha concluso Paolo Frattura. Non c'è che dire, il presidente fa bene ad alzare la voce e a difendere l'autonomia del Molise, anche sbattendo i pugni sul tavolo. Vogliamo ricordare però a Paolo Frattura che tutte le economie di cui si vanta le ha realizzate quasi esclusivamente sulla pelle dei lavoratori, gamme, zuccherificio, ITR, edilizia, settore dell'editoria, piccole e medie imprese, costrette a fare i conti con la devastante crisi che di fatto sta cancellando il tessuto produttivo della regione e quindi la sua stessa autonomia. Che dire poi della ostinata volontà dei 21 consiglieri regionali a difendere fino in fondo i privilegi dei loro ricchi stipendi, dell'indenità per i portaborse abolita solo dopo la figuraccia rimediata con le iene, delle spese pazze fatte con i soldi pubblici assegnati ai gruppi per le quali si attende ancora l'esito finale dell'inchiesta condotta dal PM Nicola D'Angelo della proposta sul quinto assessore, furbate e malefatte che al di là della dichiarata volontà, di certo non aiutano a difendere l'autonomia di una regione messa in discussione da una classe politica miope e incapace di guardare al futuro. L'amministrazione comunale di Campobasso è al lavoro. Dopo l'assegnazione delle deleghe l'attività può partire. Il PD, il primo partito della coalizione, ha già pronte le proprie proposte. Ascoltiamo Anna Maria Di Matteo. È giovane anagraficamente ma è già un veterano della politica cittadina. Giose Trivison, eletto in Consiglio Comunale a Campobasso, ricopre l'incarico di capogruppo del PD, il primo partito della coalizione di centrosinistra che sostiene il sindaco Antonio Battista, un incarico di rilievo che riguarda un partito che ha avuto i maggiori consensi dagli elettori che dunque proprio per questo si aspettano risposte concrete. Un incarico che mi dà onore, è il gruppo più importante al Consiglio Comunale di Campobasso, ci sarà da lavorare, però sono molto contento personalmente ma anche per il gruppo che ritengo costituito da persone validissime e sono convinto che faremo un ottimo lavoro come PD e come maggioranza di centrosinistra al Comune di Campobasso. Allora, a proposito di gruppo, avete avuto modo già di incontrarvi e di gettare anche le basi su quello che sarà la vostra proposta all'interno del Consiglio Comunale? Abbiamo avuto due eventi importanti che hanno dato lo start-up all'amministrazione ovvero il Corpus Domini e la venuta del Papa e sono stati due banchi di prova importanti, a mio giudizio superati, è stata una scelta politica quella di decidere di far venire Papa Francesco al centro della città. Ora stiamo lavorando per le linee programmatiche dei cinque anni. In questi giorni si sta parlando anche della destinazione dell'ex stadio Romagnoli e di qualche ora fa la risposta del Presidente della Regione che ha dato la sua idea su quella che dovrà essere l'utilizzo di quell'area. Per quanto riguarda il Partito Democratico e il gruppo del PD noi abbiamo già dato un segnale forte. I ragazzi del Reg, bisogna numeri importanti, dovranno continuare in base a questo è un accordo preso prima di fare degli interventi su quell'area dovranno continuare a fare la loro attività ma nel frattempo bisognerà lavorare per trovare una soluzione affinché si possa restituire quell'area a tutti i cittadini di Campobasso. Soluzioni ancora non ce ne sono, ci sono idee sulle quali bisognerà discutere e confrontarsi e sono convinto che troveremo la migliore soluzione possibile affinché i cittadini possano utilizzare quell'area ma non dobbiamo assolutamente dimenticarci che l'attività meritoria che fa il rugby non può essere così gettata al vento adesso in questa fase. E torniamo a parlare della visita di Papa Francesco in Molise in redazione ci è giunta la lettera della madre di uno dei tanti bambini del campus parrocchiale di Campobasso, Mi vuoi bene che il 5 luglio, come voluto dall'arcivescovo Bregantini erano presenti alla messa del Santo Padre si sarebbero dovuti sedere nei posti davanti all'altare ha spiegato ma all'ultimo momento sono stati spostati alle spalle sotto il sole per quattro ore e alcuni di loro si sono anche sentiti male sono stati dimenticati, ha scritto ancora la madre del bimbo nella lettera e sono rimasti sconfortati per non aver potuto salutare Francesco e non essere nemmeno stati nominati da Bregantini e ha chiamato in redazione anche una signora che si è sentita male davanti al monumento ai caduti sempre a Campobasso ed è svenuta tramite la nostra tv vuol far giungere i suoi ringraziamenti alle due persone che l'hanno soccorsa e hanno chiamato l'ambulanza e questa era la nostra ultima notizia passiamo alla rassegna stampa e alla lettura dei titoli dei giornali Apriamo come di consueto con il giornale del Molise.it il pezzo di apertura è a firma di Giovanni Minicozzi Frattura perde la memoria, difende l'autonomia del Molise e scorda privilegi e legnate ai lavoratori si dà conto della presa di posizione del presidente Frattura contro il commissario Cottarelli ma si narra anche la vicenda del Molise del governo Frattura ex Romagnoli, fuoco incrociato su Frattura l'atto di selle, il presidente ha disatteso gli impegni assunti tesoro Ciancimino, interrogatorio nel carcere di Larino per Raffaele Valente Campobasso, il consigliere regionale Patrizia Manzo visita il carcere, edificio vecchio servono interventi zuccherificio del Molise interrogazione urgente dell'onorevole Venitelli Venafro, arrivano i vigili del fuoco rapina colpi di fucile sulla A14 10.000 euro il bottino ospedale di Agnone diffida del comitato articolo 32 ai consiglieri regionali caso di Paolo, la Cassazione rinvia il processo in corte di appello Regione taglia le indennità e sfratti IACP questi temi che ha esaminato l'ultimo consiglio regionale andiamo a primo piano Molise e quindi proseguiamo con la lettura dei quotidiani locali lavoro non serve un patto ma un miracolo l'affondo del segretario Will Barbagallo ai renziani locali si diano una mossa e cambino verso in pole position per la successione di Angeletti il nazionale rilancia l'appello del Papa chiedendo però un aiuto divino vediamo le notizie di spalla da Campobasso la mamma di Giulio scrive al dottor Squiciarini anch'io avrei voluto ringraziarti termoli zuccherificio ore decisive oggi a Roma l'incontro con il ministro da Campobasso sede della regione sull'ex Romagnoli la delusione di SEL e Movimento 5 Stelle a centro pagina spending review frattura contro il rapporto Cottarelli che cancella il Molise dalle piccole realtà può partire il buon esempio comune di Sernia Brasiello e la crisi del primo anno in maggioranza già si parla di verifica vediamo poi da petacciato assalto armato sulla 14 rapinato corriere del metano Puglia la notizia dall'Abruzzo da Vasto maltrattava gli alunni condannato prof delle medie vediamo invece adesso le notizie sportive serie D Agnone recupera terreno mister Donatelli e tre acquisti l'ultimo arrivato Bernardi Sprone il Campobasso voglio vincere il campionato pallacanestro c'è l'ufficialità il globo Isernia è in divisione nazionale B e da primo piano Molise passiamo a vedere l'apertura del quotidiano del Molise rapina colpi di fucile in autostrada l'assalto intorno alle 9 dopo che l'uomo aveva ritirato l'incasso di alcuni distributori della zona seguito e bloccato nel tratto della A14 tra Termoli e petacciato 10.000 euro il bottino ex Romagnoli Movimento 5 Stelle e Selle chiedono spiegazioni al PD da Termoli arrestato per riciclaggio di denaro Valente si difende vediamo poi la polemica di frattura con il governo regione da chiudere frattura replica a Sergio Rizzo in realtà replica a Cottarelli la statistica omicidi colposi Isernia è seconda sempre da Isernia cassa integrazione straordinaria ITR nuovi pagamenti in vista sport serie D la cava Termoli possiamo divertirci e dal quotidiano passiamo a vedere come apre stamani la gazzetta del Molise i furbacchioni di Pietro Dinunzio Niro Sabusco e Monaco e c'è questo bel ritratto dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Molise vediamo l'Oscar del giorno va a Carmine Barbagallo e invece un attapiratissimo Domenico Ioffredi questa mattina viene omaggiato del papiro dalla gazzetta del Molise e vediamo adesso la stampa nazionale come apre stamane il Corriere della Sera caso italiano al vertice OE i leader non trovano l'accordo nomine rinviate ad agosto Renzi chiediamo solo rispetto resistenza su Mogherini nuove sanzioni USA l'ira della Russia vediamo in alto una fotonotizia degli scontri in Medio Oriente missile sulla spiaggia morti quattro bambini a Gaza e questo era il Corriere della Sera andiamo invece alla prima di Repubblica il PSE dice sì alla Mogherini ma è stallo sulle nomine Unione Europea nel PPI rispunta il nome di Letta vertice notturno la decisione slitta ad agosto vediamo anche qui di spalla una fotonotizia drammatica Gaza muoiono quattro piccoli palestinesi bombe sui bimbi in spiaggia Israele prepara l'invasione poi questa notizia tutta l'Italia può essere spiata il rapporto segreto sulla nostra privacy in barba questo a tutte le regole che proteggono la privacy dei cittadini andiamo alla stampa di Torino anche qui l'apertura è dedicata alle nomine dell'Unione Europea nomine o è slitta l'intesa trattativa nella notte Renzi tiene duro sulla Mogherini l'Italia merita rispetto il PSE sostiene il ministro italiano per la politica estera ma per l'accordo servirà probabilmente un altro vertice ad agosto in taglio alto Gaza quattro bambini uccisi sulla spiaggia dalle bombe israeliane a centropagina la stampa riporta una foto di Allegri Allegri con me la Juve resterà in alto e quindi parla il nuovo tecnico bianconero dalla stampa di Torino andiamo all'unità e vediamo come apre questa mattina il quotidiano fondato da Antonio Gramsci con il sangue dei bambini quattro bambini uccisi sulla spiaggia di Gaza durante il raid israeliano erano cugini stavano giocando la denuncia del Guardian colpiti a freddo senza preavviso difficili trattative per il cessato il fuoco e vediamo questa tragica fotonotizia che non ammette altro commento che il dolore per quello che vediamo Unione Europea tensione sulle nomine giallo su letta e dall'unità passiamo al quotidiano dei Vescovi l'avvenire che questa mattina titola il marchio della vergogna sulle abitazioni dei cristiani a Mosul l'ultimatum dei fondamentalisti islamici il vicario caldeo di Baghdad denuncia agli abitanti viene intimato di andarsene o di convertirsi poi vediamo anche qui la notizia sui bimbi uccisi uccisi quattro bambini oggi tregua umanitaria questa è la notizia da Gaza vediamo poi sempre la questione delle nomine la OE non decide congelate le nomine ed era l'avvenire leggiamo adesso la prima pagina del tempo Cerroni non ha vinto sui rifiuti ho ragione io parla il prefetto Pegoraro pronto il ricorso contro il Tar che ha restituito gli impianti al re della monnezza vediamo poi le foto drammatiche dal Medio Oriente fratelli di sangue in alto di spalla a la destra cerca se stessa e si parla del cantiere dei moderati diamo uno sguardo al fatto quotidiano stop alla Mogherini Renzi sbatte la faccia sull'Europa il premier arriva in ritardo a Bruxelles e trova un clima sempre più ostile alla nomina della sua ministra degli esteri gioco delle parti fra PPE e PSE ma entrambi i partiti preferiscono altri candidati è il primo smacco di Super Matteo e vediamo l'editoriale di Marco Travaglio quando Renzi era Renzi dal fatto quotidiano andiamo al giornale di Milano la storica testata fondata da Indro Montanelli Prodi assolve Berlusconi nessuna prova il testimone chiave nel processo sulla compravendita di senatori smonta l'accusa solo dicerie il fatto a sorpresa caso Rubi sentenza sbagliata vediamo poi di spalla l'Europa spaccata sul candidato di Renzi dopo la Mogherini spunta il giallo letta dal giornale andiamo alla prima pagina di Libero governo in ginocchio a casa dei Benedetti beccati dice Libero del Rio alle 8.30 del mattino in visita all'ingegnere vado a sentire il polso del paese ma di cosa hanno parlato di Repubblica del PD di Silvio dei depiti sorgenia ed è un gesto dignitoso questo si chiede Libero poi vediamo la consueta vignetta di Benni i nemici aiutano Berlusconi e vediamo Berlusconi in versione Pinocchio portato via dai gendarmi Euroschiafforrenzi Mogherini rischia celletta e questo era libero il mattino anche il quotidiano di Napoli apre sulla vicenda delle nomine nomine OE e scontro l'ira di Renzi il premier l'Italia merita rispetto consiglio dal PP rispunta l'ipotesi letta non c'è accordo sulla commissione dai socialisti sia la Mogherini ma la Merkel frena rinvio ad agosto e diamo uno sguardo adesso alle notizie sportive con la gazzetta dello sport c'è una grande foto di Allegri il tecnico della Juventus svolta Juve il nuovo tecnico si è già presentato le tre sfide di Allegri entrare nel G8 Champions trovare l'intesa compirlo conquistare chi lo contesta e questa era la gazzetta dello sport come di consueto con le notizie sportive si chiude la nostra rassegna stampa l'informazione di Telemolise torna puntuale alle ore 14 con il nostro telegiornale a voi tutti l'augurio di una serena giornata che di un'altra a voi tutti che